Musica Professor Rolando Dondarini docente di storia medievale all'Università di Bologna del Dipartimento di Scienze e dell'Educazione Giovanni Maria Bertin ed è anche Presidente della Festa Internazionale della Storia di Bologna I suoi recenti saggi scientifici tratta il tema dell'insegnamento della storia un insegnamento in tempo di crisi e anche di involuzione del sistema scolastico Sì, certamente, dobbiamo registrare e credo che sia sotto gli occhi di tutti che gli insegnanti sono in grave difficoltà per una serie di motivi compreso anche l'aspetto del lungo precariato e del trattamento economico Tutto questo naturalmente si ripercuote anche sulla loro volontà di aggiornarsi e anche sulla qualità quindi dell'insegnamento a livello generale e quindi c'è un problema molto forte che riguarda proprio l'insegnamento e l'apprendimento in una situazione di questo tipo in cui fra l'altro anche tutte le attività estrascolastiche vengono limitate da una serie di restrizioni di carattere prevalentemente burocratico io credo che uno dei compiti dell'università, del mondo accademico sia quello di dare una mano per cercare di collaborare per alzare la qualità dell'insegnamento Certo, lei è come ho citato all'inizio presidente della festa internazionale quindi è anche organizzatore di questo evento ci ricorda l'idea originale della festa e le principali iniziative di questa edizione? L'idea originale nasce da un moto di insoddisfazione nostro cioè non riferito agli insegnanti di altro tipo cioè proprio a me stesso e a coloro che hanno collaborato con me cioè l'insoddisfazione sul modo di insegnare la storia un modo che lascia, sappiamo, non solo indifferenti i nostri giovani ma che li rende addirittura così lontani perché sentono in modo repulsivo la storia più delle volte mentre noi che siamo dentro per una serie di motivi sappiamo che ci sono aspetti molto affascinanti della storia primo fra tutti trovare dei motivi che ti facciano capire che in realtà tu sei protagonista della storia Senta, siamo nella sala Stabat Mater uno degli ambienti più rappresentativi dell'antica Università di Bologna e organizzando qui questa festa direi che c'è un collegamento si può fare, lei l'ha fatto in questo modo un collegamento con i fasti di Bologna di un tempo può descriverci in sintesi i caratteri e il clima culturale che esprimeva l'Università di Bologna nel Medioevo? Intanto una grande innovazione era un passaggio di testimone tra la cultura prevalentemente di impronta ecclesiastica che aveva avuto una grande importanza e quella laica qui anzi assistiamo veramente nella nascita della scuola del diritto tra il Vescovo Pepone e Irnerio proprio una specie di passamano mi piace dirlo perché è un termine che noi usiamo spesso e quindi intanto la rinascita di una cultura laica non in contrapposizione ma in armonia con quello che era avvenuto precedentemente e poi l'articolarsi dell'apprendimento in tante arti le arti liberali e una serie di conquiste, di conoscenze penso ad esempio all'anatomia di Mondino degli Uzi a tante cose, a tanti passi che erano poi ulteriori spinte per nuovi passi quindi l'Università di Bologna, lo studium così come fu fino a che non incappò in alcune forme di crisi dovute soprattutto a crisi della società bolognese fu veramente proiettata verso un futuro e noi vogliamo riprendere questa proiezione Siamo appunto in questa sala dove tra stucchi e decorazioni varie c'è anche un affresco di una Madonna con il bambino del Cinquecento quindi Bologna è per esempio la Vergine di San Luca ma anche Bologna e i Domenicani che hanno ricevuto dalla Vergine il dono del Rosario ci può dare qualche indicazione, rinvio al suo l'origine dell'Ordine dei Predicatori e l'Università di Bologna? Vede, una delle mancanze di consapevolezze che purtroppo colpisce anche i bolognesi è che non tutti sanno che noi qui abbiamo il fondatore di uno dei due grandi ordini mendicanti abbiamo Domenico che scelse appunto Bologna perché è città universitaria perché è convinto che, e credo giustamente che l'ambito a cui rivolgersi dovesse essere quello dei giovani in un momento molto difficile siamo all'inizio del 200, intorno al 1920 quando c'erano appena state le lotte tremende anti-ereticali nella Francia meridionale lui aveva assistito a queste cose e quindi voleva portare un messaggio di pacificazione e nello stesso tempo aprire a un futuro in cui i giovani fossero portatori a loro volta di questo messaggio professoressa Francesca Roversi Monaco docente di storia medievale all'università qui di Bologna due battute su questo libro di cartini che è stato riedito alle radici della cavalleria grazie, buonasera sì, una riedizione secondo me è fondamentale perché ritengo che sia davvero un classico la cosa sulla quale poi io mi soffermerò nel corso della tavola rotonda e che mi ha continuato ad attrarre in tutti questi anni è la qualità della scrittura perché è un volume molto ricco, molto bello davvero che ripercorre con la capacità straordinaria di Franco Cardini che è rara ripercorre le radici della cavalleria ma in un modo avvincente tanto avvincente che appunto secondo me è davvero un classico quindi sono molto soddisfatta anche di poterne parlare con dei colleghi così illustri Nella riedizione del tuo volume alle radici della cavalleria medievale è arrivata anche qui a Bologna con una bella festa la festa internazionale della storia di Bologna che effetto ti fa? Ma io e la cavalleria medievale evidentemente ci perseguitiamo a vicenda credo di aver fatto più io danni a lei che lei a me anzi lei in fondo ogni tanto mi fa delle belle sorprese come oggi beh è un libro che senza dubbio è un evergreen per così dire perché è stato scritto mai a metà degli anni 70 ha avuto una lunga stagionatura editoriale perché era un libro strano, bizzarro poi troppo grosso, troppo tutto è stato pubblicato nell'81 poi ce n'è stata un'edizione Pocket che non era Pocket affatto perché era ingombrante nel 2004 la Rizzoli Sansoni lo ripubblicò e adesso il mulino l'ha ripubblicato con tutta una serie di apparati c'è una bella, molto bella introduzione anzi un invito alla lettura di Alessandro Barbero molto intelligente molto spiritoso come sempre c'è una mia noiosa goffa non è nemmeno un'apologia è nemmeno un tentativo di difesa è una postfazione dove io rispondo un po' agli argomenti di Barbero un po' fra il serio e il facetto il libro nell'intenzione è un libro serio fin troppo che vorrebbe essere un lavoro sospeso fra storia filologia, archeologia e antropologia visto dalla sponda di 40 anni dopo bisogna dire che è un po' avanche la lettre perché io lo feci sulla base di due belle, forti e solide sollecitazioni una era la mia frequentazione all'Ecole des Autétudes con Brodel e le Goff e un'altra era la mia lunga residenza a Mosca dove avevo potuto vedere delle cose che sono importanti per il libro soprattutto sulle culture caucasi che secondo me sono state decisive nella costruzione non solo militare della cavalleria medievale quindi un libro che ha un ottimo pedigree quale poi sia stato il risultato per fortuna non sta a me deciderlo Senti, in una precedente intervista che ti ho fatto hai detto che però se dovessi riscriverlo oggi forse faresti qualche cambiamento al libro quindi la storia si deve sempre scrivere, riscrivere, interpretare e persino rivedere? Ma sì, contrariamente a quello che noi pensiamo la storia non è una scienza del passato è una scienza del presente se non addirittura del futuro è evidente che 50 anni dopo con tutto quello che è successo nel campo dell'archeologia basta pensare alle ricerche sull'osteologia fossile alle ricerche anche addirittura sul DNA anche su quello degli animali che cambiano le prospettive le prospettive che allora si potevano studiare con l'aiuto di pochi strumenti si era ancora in fondo a un'antropologia sostanzialmente ottocentesca di tipo darwiniano se si vuole oggi siamo proiettati nel futuro quindi una ricerca di oggi sul cavallo e il cavaliere dovrebbe tenere conto per esempio dei grandi risultati che abbiamo avuto in etologia e io anche lì ero un pochino già all'avanguardia perché citavo Hebel Ebersfeld citavo Conran Dorenz quando addirittura erano autori maledetti perché erano in fama di essere piuttosto destrorsi e quindi non si potevano citare e questo sparse un po' di così di cortina di zolfo intorno a questo libro ebbe recensioni non negative non ho avuto bontà loro ma non ho avuto recensioni negative ma recensioni ideologicamente molto ispirate a antipatia a riservo qualcuna di queste si le ha avute anche qualche illustre mio illustre collega in questo si è distinto ma questo è il gioco universitario altra parte io avevo allora più o meno 40 anni ero in odore di cattedra e naturalmente c'era qualcuno che ambiva questa cattedra per darla a qualche altro collega magari più valoroso e più meritorio di me e quindi naturalmente naturalmente ci sono stati anche questi elementi extrascientifici che hanno pesato alla lunga bisogna dire che il libro è stato apprezzato largamente non è stato granché tradotto ha solo una traduzione di cui io un po' mi vanto anche perché è una cosa chic perché è una traduzione in russo è una pubblicazione dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica dell'86 e francamente bisogna dire che con tutto il male che si può e forse si deve dire dell'Unione Sovietica beh l'Accademia delle Scienze non regalava troppo ecco quindi il fatto che abbiano passato a un esame molto accurato questo libro e abbiamo deciso di pubblicarlo loro mi è stato grande merito per me fonte anche di soddisfazione poi in seguito a quello la Repubblica Sovietica no la Repubblica adesso non è più sovietica ma è ancora democratica la Repubblica Democratica dell'Ossetia in pieno caucaso mi ha fatto suo cittadino onorario quindi di questo sono molto contento quando vado a Vladikavkas posso fregiarmi di questo titolo e sono piccole cose naturalmente però nelle università russe continua a circolare mentre altrove naturalmente lo leggono in traduzione italiana è piuttosto conosciuto e citato ma non ha avuto traduzioni forse anche perché un po' la mole e la difficoltà dell'argomento scoraggia un po' i traduttori ecco però per il resto abbiamo sentito abbiamo sentito poco fa la professoressa Francesca Roversimonaco che elogiava anche proprio invece il suo modo di scrivere che è molto raro così raffinato così bello quindi Francesca è una carissima amica quindi probabilmente quando dice le cose ci mette un po' di partigianeria è giusto che sia così però detto da lei mi fa piacere perché Francesca pur essendo giovane ha dato ottime prove di sé sul piano della medievistica ed è una giovane studiosa dotata di una ottima qualità di scrittura quindi detto da lei mi fa particolarmente piacere in generale purtroppo gli storici non scrivono bene questo va detto ed è un male dovrebbero curare maggiormente perché insomma l'espressione è parte della comunicazione ed è indispensabile per la divulgazione per la divulgazione è assolutamente indispensabile ma io direi che una scrittura efficace anche perché no una scrittura con qualche non eccessiva volontà se non velleità di tipo estetico non fa di per sé male alla scienza ecco io sono in questo poche volte mi trovo d'accordo con Benedetto Croce ma quando Benedetto Croce il quale notoriamente non era un universitario rimproverava gli universitari del tempo che naturalmente non erano suoi colleghi e lui non li amava ma li rimproverava di non essere abbastanza letterati e di non rispettare abbastanza il pubblico beh forse aveva qualche ragione bene professor Alessandro Barbero di docente di storia medievale all'università di studi del Piemonte orientale oggi siamo qui nell'aula Stabat Mater di Bologna per la festa della storia si e si parlerà della riedizione di un libro di Cardini alle origini della cavalleria di cui lei ha fatto un brillantissimo invito alla lettura che ha ricordato prima ho sentito anche il professor Cardini e l'ha ricordato insomma felicemente e nel quale lei tra l'altro svela tra critiche polemiche il valore del volume pur dice ad orso di un cavallo non ancora ben domato di carattere assai irrequieto anche lei scrive molto bene come Cardini gli inviti alla lettura bisogna farli così perché altrimenti se si riesce a annoiare il pubblico già nell'invito è finita lei in questo invito alla lettura cita nella sua prefazione la barbarizzazione dell'esercito romano la cristianizzazione dei barbari Carlo Magno lo stemminio dei sassoni la poesia epica religiosa degli anglosassoni l'atteggiamento della chiesa nei confronti della guerra e del servizio militare insomma alcuni di questi temi mantengono ancora interesse e non sono stati ancora del tutto svelati e forse compresi negli studi di oggi sì al di là del fatto che naturalmente poi in realtà i nostri temi non si esauriscono mai perché ogni epoca guarda al passato con un occhio diverso e quindi per fare un esempio le invasioni barbariche che sono un tema di cui parla Cardini in questo libro fra tante altre cose le invasioni barbariche fino a qualche anno fa nessuno sarebbe venuto in mente di guardarle come una forma di immigrazione perché dell'immigrazione non ci interessava niente adesso che per noi è un problema cruciale scopriamo che anche le invasioni barbariche a loro modo sono un problema di gestione dell'immigrazione quindi questo per dire che i nostri argomenti per fortuna non si esauriscono mai tu puoi magari accertare i fatti ma poi il valore che hanno per te cambia da un'epoca all'altra qui con questo elenco di temi io volevo sottolineare fondamentalmente la straordinaria straripante ricchezza di questo libro perché ognuno dei temi che lei ha citato e altri ancora che abbiamo taciuto ci si possono scrivere dei libri interi sul problema del rapporto tra la chiesa cristiana e la guerra sono stati scritti moltissimi grandi libri e solo uno dei tanti argomenti che Cardini approfondisce in questo libro lei qualche tempo fa ha presentato il suo volume L'epanto la battaglia dei tre imperi al corso di geopolitica di Pordenone quindi per noi di storia si tratta di un volume che ha vinto diversi premi anche e tradotto in francese e spagnolo quindi le guerre benedette crociate la jihad sono un suo tema ma lei è autore anche di uno studio sulla cavalleria qual è il ruolo dei cavalieri nelle guerre benedette? La cavalleria è per quello che Cardini ha potuto guardarla da così tanti punti di vista è un fenomeno sfuggente che assume tante facce probabilmente la cavalleria in origine è soprattutto solidarietà di guerrieri virili che danno valore a più di tutto al fatto di essere forti in battaglia non scappare non abbandonare i compagni d'arme e che peraltro poi procedono massacrando uccidendo senza farsi troppi problemi ma la cavalleria è anche l'enorme sforzo della chiesa medievale di dire a questi guerrieri no voi la vostra violenza la dovete usare per dei fini buoni dovete proteggere i deboli dovete proteggere la fede dovete combattere gli infedeli questa seconda cosa è solo una parte della cavalleria fino a quanto a che punto ci credessero gli stessi cavalieri io non ho ancora capito bene però ufficialmente a un certo punto si comincia a far finta di crederci e allora è chiaro che quando ci sono le crociate le guerre contro i nemici di Dio che poi preghino lo stesso Dio in un'altra lingua questo non importa niente a nessuno ecco allora i cavalieri entrano in ballo a lei quanto ci sono dei cavalieri i cavalieri di Malta che sono gli eredi della cavalleria medievale e che oggi ci sono ancora e sono tornati per fortuna a fare quello che facevano all'inizio cioè occuparsi di ospedali anziché andare in giro per il Mediterraneo a scannare musulmani certo senta lei è anche un grande divulgatore con la partecipazione a trasmissioni Rai e per questo avrei anche il coraggio di chiederle la sua opinione sulla guerra che si sta combattendo oggi nei confronti del cosiddetto stato islamico e di individuare diversità e differenze e identità con le crociate e le jihad che lei appunto è una domandina da niente abbiamo un paio d'ore è vero profilo no direi l'identità la somiglianza rispetto a situazioni del passato è questa la tendenza della nostra comunicazione ufficiale pubblica ad appiattire tutto sulla dimensione religiosa lo stato islamico come se ci fosse una banda di delinquenti che in occidente a un certo punto comincia a uccidere a compiere atti terroristici in nome di Cristo Re per esempio e noi lo chiamassimo i cristiani nessuno li chiamerebbe i cristiani diremmo sono dei delinquenti che in modo distorto credono di trovare nella fede religiosa ecco è la stessa cosa anche in passato si cercava di far credere alla gente che c'era in ballo una guerra fra noi e loro i buoni e i cattivi i cristiani e gli infedeli quando poi le cose erano molto più complesse di così per cui una cosa che noi storici abbiamo un po' imparato e che mi sento di dire al pubblico appunto attenzione questi fanatici dell'isis del califato sono certamente musulmani pazzi scatenati l'islam non è necessariamente quello se ci ricordiamo questa cosa riusciamo probabilmente a gestirla un po' meglio la faccenda grazie ugo berti arnoaldivelli è editor di storia per il mulino ha voluto lui ripubblicare il volume alle radici della cavalleria medievale di franco cardini un libro poderoso di 668 pagine compresa post fazione e diversi indici dei nomi un volume che ha visto l'edizione di diverse decine di anni fa l'autore anche prestigioso è appunto franco cardini che è direttore d'etude dell'école des études di scienze sociali a parigi è fellow alla harvard university è professore emerito di storia medievale ed è autore di circa 140 monografie tradotte in 30 lingue sì la decisione di rifare questo libro in realtà è preceduta dalla decisione di pubblicarne un altro cioè quell'antica festa crudele che è il libro sulla guerra e la cultura della guerra che è uno dei primi libri di cardini insieme a questo sulla cavalleria allora era all'interno di un interesse che noi coltiviamo da qualche anno sulla guerra e appunto sulla cultura della guerra abbiamo fatto molti titoli di storia della guerra e questo che di fatto è un grande classico appunto sulla cultura della guerra un giorno quasi per caso ho scoperto che era ormai fuori commercio nonostante abbia avuto varie edizioni da vari editori abbiamo chiesto a Cardini di rifarlo e lui ha accettato ed è nata così la accoppiata di queste riedizioni dei suoi due primi libri che sono probabilmente i suoi due libri di maggior respiro e più io penso di poter dire i libri più importanti naturalmente sono libri che sono collocati in una stagione anche della sua ricerca non potevano essere rifatti e aggiornati come si fa un manuale come si riedita un manuale quindi però poteva essere l'occasione di ripensare per lui di ripensare alla storia anche della ricezione del libro ed è come è cambiato nel tempo anche il problema della guerra quindi per l'antica festa crudele ha fatto una nuova introduzione riflettendo appunto su questo poi mentre preparavamo questa edizione lui mi ha segnalato che era tornato in possesso dei diritti anche del libro sulla cavalleria noi pronti l'abbiamo preso questo è un libro che ha avuto una storia anche travagliata perché uscì anche in mezzo alle polemiche tuttavia rimane un libro molto importante è stato tradotto anche in francese è stato tradotto anche in russo questo spiega la stratificazione della nostra edizione perché l'edizione una delle edizioni successive aveva l'edizione la prefazione di Jean Fleury che è uno storico francese esperto di Crociate in particolare che l'aveva recensito e anche prefatto nell'edizione francese poi c'era l'introduzione sua e poi lui desiderava è stato il suo desiderio di essere prefatto da Alessandro Barbero che è un esponente della generazione successiva poi naturalmente siccome è un autore debordante alla fine ha pensato bene di fare una postfazione quindi alla fine è risultato una specie di libro astrati che però racconta bene anche l'evoluzione della ricezione di questo libro nel tempo di questi ormai 30 e più anni di vita i grandi libri sono sempre attuali forse questo è il significato delle due riedizioni allora sì io lo spero almeno dovrebbero uno dei dei sensi di questa operazione è che i grandi libri in realtà spariscono subito e anche come i brutti libri nel mercato editoriale contemporaneo che ormai non si può più permettere di tenere in commercio in catalogo per decenni libri che magari sono importanti ma vendono poco per cui credo che un'operazione secondo me culturale interessante in qualche caso anche di pietà secondo me riportare in vita libri che sono scomparsi non lo meritavano affatto io credo che questi siano libri che hanno ancora qualcosa da dire ed è giusto che siano vivi e per quello che possiamo li teniamo vivi noi città ci città città l'ultima città città la